personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei giovani. Gesù ci mette in guardia. Non andate dietro a loro! Non andate dietro a loro! E il Signore ci aiuta anche a non avere paura. Di fronte alle guerre, alle rivoluzioni, ma anche alle calamità naturali, alle epidemie, Gesù ci libera dal fatalismo e da false visioni apocalittiche. Il secondo aspetto ci interpella proprio come cristiani e come Chiesa. Gesù preannuncia prove dolorose e persecuzione che i Suoi discepoli dovranno patire a causa Sua. Tuttavia, sicura, nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto. Ci ricorda che siamo totalmente nella mani di Dio. Le avversità che incontriamo per la nostra fede e la nostra adessione al Vangelo sono occasione di testimonianza. Non devono allontanarci dal Signore, ma spingerci ad abbandonarci ancora di più a Lui, alla forza del Suo Spirito e della Sua grazia. E in questo momento penso, e pensiamo tutti, facciamolo insieme, pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani che soffrono persecuzione a causa della loro fede. Gesù è con loro, anche noi siamo uniti a loro con la nostra preghiera e il nostro affetto. Anche abbiamo ammirazione per il loro coraggio e la loro testimonianza. Sono i nostri fratelli e sorelli che in tante parti del mondo soffrono a causa di essere fedeli a Gesù Cristo. Li salutiamo da cuore e con affetto.